Ciao a tutti, quest'oggi vi mostrerò come costruire una macchina su Minecraft. Cominciamo con il mettere un blocco di carbone per terra, poi mettiamone un altro 4 blocchi più avanti. Mettiamo un altro di lato, 2 blocchi di distanza. Queste saranno le ruote. Da questa parte mettiamo una botola di ferro sulla parte superiore di questo blocco, sopra il quale metteremo del quarzo. Di fianco mettiamo delle scalette al contrario. E più avanti altri 3 blocchi di quarzo. Poi mettiamo qui una lastra e al suo lato delle altre scalette al contrario. Mettiamo qua dietro un blocco di quarzo, qui uno di vetro e un altro di quarzo. Più avanti mettiamo due pannelli di vetro e un ultimo di lato. Successivamente ripetiamo la stessa cosa dalla parte opposta. Una volta fatto, passiamo alla parte davanti. Mettiamo qua sotto due botole di ferro. Per unirle mettiamo due lastre di quarzo, sopra le quali metteremo due fornaci. Dietro mettiamo dei blocchi di carbone, con sopra due botole di ferro. Attaccati a questi pannelli mettiamo due blocchi di vetro. E ora passiamo a fare la parte posteriore. Qui a sinistra mettiamo una botola di ferro, poi mettiamo dietro di uno un blocco qualsiasi, per poi mettere una tramoggia puntandogli sopra, togliendo questo. Mettiamo due blocchi di quarzo sopra. Qui su due pannelli di vetro. E facciamo la parte inferiore della macchina, mettendo delle lastre di quarzo a questa altezza. Qui davanti mettiamo due blocchi di carbone. E ora facciamo il tetto. Su tutti gli angoli superiori mettiamo dei tappeti grigi. Mettiamone anche qui sul cofano. E finiamo mettendo delle lastre di quarzo qui sopra. Adesso faremo i dettagli. Mettiamo dei pulsanti su tutti i lati esterni dei blocchi di carbone. Mettiamone due su tutti e due i lati. E una leva davanti. Poi mettiamo delle scalette a pioli in questi punti. Andiamo dietro e mettiamo qui un blocco di carbone. Con sopra un pulsante, ho un alato delle sbarre di ferro. Questa sarà la ruota di scorta. Qui davanti mettiamo quattro sbarre di ferro. E per finire mettiamo dei cartelli qua sotto da entrambi i lati. Con questo, la nostra macchina è finita. E noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao a tutti!